Un buco vero, una stella così diversa che nelmeno la luce riesce a puntare attraverso la sua spinta capitazionale. Gli osservatori astronomici ne hanno scoperto uno o meno di sei a mia luce dalla terra, dove ogni astronave ho l'opportunità di studiarlo da molto vicino. Gli osservatori astronomici ne hanno scoperto uno o meno di sei a mia luce, ma non avevo molto tempo per questa macchina. Gli osservatori astronomici ne hanno scoperto uno o meno di sei a mia luce. Grazie a tutti. Grazie a tutti.